Un caro saluto a tutti i giovinazzesi e il mio messaggio è rispettiamo le regole per la nostra tutela. Buon ascolto. San Martai. 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 ho cercato di dedicare tutto questo tempo a me stessa, tempo che in genere purtroppo non ho perché conduco una vita molto frenetica e molto impegnata e quindi finalmente ho avuto tutto questo tempo libero per me e ho deciso di sfruttare al meglio questa occasione e ho fatto anche cose in casa che fanno parte della routine quotidiana che in genere non ero abituata a fare e mi sono anche divertita molto e nulla, volevo dire a tutti di cercare di resistere ancora un po', di continuare a rispettare le regole, di restare a casa e uscire solo se necessario e l'augurio che posso darvi è quello di sperare che al più presto ritorniamo tutti quanti noi a fare le nostre vite normali e quello di finalmente poterci riabbracciare tutti quanti. Intanto vi saluto qui da casa mia, un bacio a tutti, ciao! Ogni alba porta un nuovo giorno, lavando con la luce della speranza le macchie e la polvere dello spirito vuoto di ogni giorno passato vuoi celare te stesso? Il cuore non ubbidisce, diffonde luce dagli occhi nella vita non c'è speranza di evitare il dolore, che tu possa trovare nell'animo la forza per sopportarlo Ceco, non sai che l'andare e il venire camminano sulla stessa strada Se sbarri la strada all'andata, perdi la speranza del ritorno Sulle parole del poeta e filosofo bengalese Tagore desidero rivolgervi, cari amici, l'augurio perché l'alba del nuovo giorno ci faccia ritrovare i colori della bellezza e ci faccia comprendere che il segreto della felicità è dato dal costruire relazioni di autenticità e di bontà A presto rivedervi Ciao, sono Pasqualino e sono di giovinazzo ma vivo a Brooklyn Questo è un periodo difficile, siamo anche qui in quarantena da due mesi ed è facile farsi prendere un po' dallo sconforto, dalla malinconia Quindi quello che cerco di fare è sempre di restare creativo, usare la musica, le parole, i libri, lo yoga per cercare di far volare l'immaginazione Tutti siamo stati bambini e da piccoli, anche stando chiusi in una stanza da soli riuscivamo a viaggiare ovunque, a pensare qualsiasi cosa e quindi bisogna utilizzare questo periodo proprio per ricordare quel momento in cui la nostra immaginazione viaggiava senza limiti E proprio per questo ho scelto questa canzone Pure Imagination Pure Imaginazione da Charlie e la fabbrica del cioccolato Ho tradotto le parole in italiano Spero che vi piaccia Entra insieme con me In un mondo d'immaginazione Volerai dappertutto Con l'immaginazione Cominciando da qui Ogni idea diventa un'invenzione Non ti serve ci sia Spiegazione Con la fantasia correrai Su per mille più sentieri Avverando desideri Puoi cambiare il mondo Se ci credi Non c'è posto, lo so Superiore all'immaginazione Che ti porta là dove il tuo cuore sognerà Non c'è posto, lo so